Scacco alla gang dello spaccio di Salerno Città. 13 persone sono finite in carcere e 10 agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e connesso spaccio. Stavane l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Salerno nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. L'inchiesta, durata dagli inizi del 2018 sino ad agosto 2020, ha permesso di portare alla luce un'organizzazione piramidale nota come Uaglione di Via Irno, vista la provenienza di diversi associati nonché l'area delle basi operative utilizzate, retta dal pregiudicato Agnello Pietro Fesa. Al suo interno veri e propri centralinisti alternati in turni che ricevevano le ordinazioni disponendo anche l'appuntamento o la consegna a domicilio dello stupefacente, a volte anche con messaggi promozionali come tutte e tre le cose a 15 euro, lento, veloce, perfumare, dove lento stava per eroina, veloce per cocaina e perfumare. Faceva riferimento al crack, le tre sostanze di solito smerciate che venivano acquistate a secondigliano. Si usavano dunque mezzi di comunicazione rapidi per una platea di compratori tra i 18 e i 30 anni. Nell'organizzazione, che non ha subito una battuta d'arresto neppure con il covid, anche tre donne. Oltre al frequente cambio di utenze telefoniche e al linguaggio in codice, il gruppo criminale era in possesso anche di un notevole parco auto e moto, integrato spesso da mezzi a noleggio per eludere i controlli. In gente, il giro d'affari, si parla di ricavi giornalieri tra i 500 e 1000 euro a testa tra i sodali, con prezzo proposto di 10 euro a dose e di un ricavo totale stimato in oltre un milione di euro annui. Il capo dell'organizzazione era pronto anche a fornire consigli, denaro e assistenza legale per chi veniva arrestato e infatti nel corso delle indagini sono avvenuti 10 arresti in flagranza, due denunce, 6 sanzioni amministrative e il sequestro di 30 grammi di cocaina, 320 di eroina e 20 pezzi di crack.